Io ti amo. Aspetta. Allora, chi è il vincitore? Avete vinto entrambi. Congratulazioni. Ora vai, metticela tutto, ok? Vai! Dove stiamo andando? Ho preso una scorciatoia. Così arriviamo prima al ponte sul Bosphoro. Sì, d'accordo, ma il ristorante non è sulla sponda europea, mi pare. Cambio di programma. Il ristorante ha una succursale sulla sponda europea e mi è stato detto di portarla lì. Pronto, signora Hunan? Sì, momento, prego. Oh, ma allora la presentazione si tiene qui, tu la sapevi. Oh, non ne avevo proprio idea, ma che coincidenza. Oiku, stai bene, cosa è successo? Mi dispiace tanto di aver mandato a monte i vostri programmi, credimi. Ma voi non sapete cosa mi è successo, non ci crederete mai. Buongiorno, signori, mi chiamo Seima. Molto piacere. Piacere mio. La riunione è finita, sei arrivata tardi. Oh, a proposito, sei licenziata? Cosa? Oiku, ti senti bene? Grazie di essere qui. Non voglio vedere nessuno, cerca di capire. Oh, io sarei nessuno per te. Io sono il tuo ragazzo, come puoi evitare il tuo ragazzo per tre giorni? Questa è una ragione per rompere. Si può sapere per chi mi hai preso? Che cosa ti ha saltato in mente? Pensi davvero che io corra dietro ai soldi? Non mentire a te stesso. C'è qualcosa di speciale in lei. E tu te ne sei innamorato. Il monumentale Palazzo Barberini. Mi scusi, professoressa, posso entrare? Prego. Vado a sedermi. Bene. Sei impazzito per caso? Non ti voglio più vedere, esci dalla mia vita per sempre. Non ti voglio più vedere, esci dalla mia vita per sempre. Grazie a tutti